Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Chi mi segue da tempo sa benissimo quanto sia grande la mia passione per Jurassic Park e per le creature preistoriche in generale. Queste forme di vita, scomparse da milioni di anni, non smettono mai di affascinarci e di farci fantasticare. In questo nuovo video a tema Jurassic Park vi propongo proprio uno scenario di fantasia. Immaginiamo infatti di creare un parco dei dinosauri con esemplari e specie che sono vissute in quei territori che ora fanno parte dell'Europa. Insomma un European Jurassic Park. Prima di iniziare come di consueto vi invito a seguirmi sui social basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Partiamo da una premessa fondamentale. Nel corso dei milioni di anni che costituiscono il Triassico, il Giurassico e il Cretaceo, la geografia del nostro pianeta è cambiata. E anche tanto. Dove prima c'era il mare, poi è arrivata la Terra. E viceversa. Senza tralasciare i cambi di habitat che hanno una grande influenza sulle specie animali che vi abitano. Ad ogni modo nel nostro parco includeremo specie i cui resti sono stati appunto rinvenuti nel vecchio continente, che siano essi risalenti al Triassico, al Giurassico o al Cretaceo. Partiamo dagli erbivori, dove possiamo inserire uno dei dinosauri più famosi della paleontologia. Un dinosauro che ha cambiato aspetto più volte nel corso del tempo, ossia l'Iguanodonte. Questa specie di dinosauro visse a cavallo della fine del Giurassico e dell'inizio del Cretaceo. Lungo fino a 13 metri, anche se la lunghezza media è stimata attorno ai 10 metri, l'Iguanodonte era un grosso erbivoro che viveva probabilmente in branco. Una delle caratteristiche più famose dell'Iguanodonte è il grande artiglio posto nelle zampe anteriori. L'uso di questo artiglio resta attualmente un mistero. Spesso è stato rappresentato come una sorta di pugnale per colpire i predatori, ma tale ipotesi è considerata ormai poco credibile. Gli Iguanodonte, anche in virtù della loro fama nella cultura di massa, sarebbero sicuramente delle ottime attrazioni, magari da inserire in un tour lungo il fiume, oppure con le celeberrime girosfere oppure le automobili a binario. A voi la scelta per quello che vi aggrada di più. Il prossimo dinosauro che inserisco porta un nome che non lascia spazio a dubbi. Europasaurus. Si chiama proprio così. Per fortuna non esiste un dinosauro che porta il nome del Kirjikistan. Ma tutte a parte, l'Europasaurus apparteneva al genere dei sauropodi brachiosauroidi, un dinosauro erbivoro dal collo lungo per capirci. L'Europasauro visse nel Giurassico superiore, circa 155 milioni di anni fa, e i suoi fossili sono stati rinvenuti nel nord della Germania. Una peculiarità che rende abbastanza unico questo dinosauro è che subì il fenomeno noto come nanismo insulare. Che cosa significa? Quando una specie di grandi dimensioni si trova a vivere su un'isola, che magari prima non lo era, dovendo sopperire alla minore quantità di cibo, riduce le sue dimensioni in maniera anche sensibile. In Sicilia si verificò un fenomeno simile, con alcuni elefanti che diventarono elefanti nani. Europasauro era infatti lungo solo 6 metri, molto meno di altri membri del genere brachiosauride. Un branco di Europasauri attirerebbe di sicuro l'attenzione dei visitatori del nostro Jurassic Park europeo, in virtù proprio delle loro dimensioni contenute, rispetto ai cugini lunghi decine e decine di metri. I paleontologi si interrogano ancora oggi sulle cause dell'estinzione di questa specie, che forse subì in maniera pesante la caccia da parte di grandi predatori. Un altro membro della famiglia dei sauropodi, che includo nel parco europeo, è il cetiosauro. Il cetiosauro visse nell'attuale Inghilterra durante il Giurassico Medio, ed era un signor dinosauro, visto che poteva raggiungere 18 metri di lunghezza per un peso stimato di circa 25 tonnellate. Insomma, mi sa che abbiamo trovato il gigante del parco. I bambini ne andranno matti. In Europa, durante il Triassico, visse anche un probabile antenato dei sauropodi, ossia il plateosauro. Essendo vissuto appunto nel Triassico, si tratta di un dinosauro molto antico, che abitò le attuali Germania e Svizzera. Le sue dimensioni stimate si attestano in un range che va dai 5 ai 10 metri di lunghezza per un peso di 4 tonnellate massimo. La postura del plateosauro era bipede, con due arti superiori corti e due robuste zampe inferiori. Pur non spiccando per dimensioni, il fatto che si tratti di un dinosauro vissuto oltre 200 milioni di anni fa lo rende un'aggiunta intrigante per il nostro parco europeo. Lasciamo ora gli erbivori per passare ai dinosauri che, gioco forza, finiscono per essere le attrazioni principali del parco, ossia i carnivori. In un Jurassic Park europeo non può di certo mancare uno dei dinosauri più famosi di sempre, ossia il Baryonyx, il dinosauro pescatore. Presente anche nel Jurassic World, il Baryonyx visse nell'attuale Inghilterra, durante il Cretaceo inferiore. Lungo circa 8-9 metri, il Baryonyx era un abilissimo pescatore. Il suo corpo si era evoluto proprio per affinare le tecniche di pesca. Basti pensare al lungo artiglio e al muso allungato, irto di denti appuntiti. Per il Baryonyx ovviamente servirebbe un habitat con tanta acqua e un bel fiume, in cui dilettarsi nella sua attività preferita. Un altro grande predatore, che non potrebbe assolutamente mancare nel Jurassic Park europeo, è il Megalosauro, il quale vanta un primato inossidabile. Si tratta del primo dinosauro mai descritto in maniera scientifica. Il Megalosauro era un dinosauro carnivoro, lungo dai 7 ai 9 metri, con un peso stimato di una tonnellata circa. Questa specie visse durante il Giurassico Medio, e va considerato come uno dei predatori alfa del suo ambiente. Purtroppo non sono mai stati rinvenuti resti, diciamo, completi o quasi del Megalosauro, che viene comunque considerato come uno dei grandi carnivori più vecchi. Inizialmente i paleontologi di fino a 800 immaginarono che questo bestione fosse quadrupede, un animale non troppo diverso dagli attuali cocodrilli. Ovviamente questa ricostruzione ora non è più valida, e lo si può immaginare come non troppo diverso da un allosauro. Meglio predisporre una recinzione bella robusta. Non vorrei che qualcuno finisse divorato da un Megalosauro infuriato. Il prossimo carnivoro che inserisco nell'European Jurassic Park inizialmente venne confuso proprio con il Megalosauro. Si tratta del Neovenator. Questo possente predatore visse nell'attuale Inghilterra, una zona ricca di dinosauri, non c'è che dire, durante il Cretaceo Inferiore. Lungo oltre 7 metri e mezzo, anche se alcuni resti suggeriscono una lunghezza di 10 metri, il Neovenator era un predatore temibile, che presenta alcune similitudini con l'allosauro, ma anche con la famiglia dei carcaradontosauridi. Sempre dall'Inghilterra arriva un altro carnivoro, ossia il Metriacantosauro. Presente nel Jurassic World di Masrani, ma non apparso nei film, il Metriacantosauro visse nel Jurassic Medio, e si attesta sui 6 metri di lunghezza. Alcuni paleontologi hanno supposto che potesse avere una sorta di vela sulla schiena, non dissimile da quella del ben più famoso Spinosauro. Ma questa tesi è ancora oggi oggetto di dibattito. Anche il Metriacantosauro inizialmente fu scambiato per un megalosauro. Questo megalosauro invadente non voleva proprio lasciare in pace gli altri fossili. Passiamo ora ai predatori di dimensioni più contenute con il Pyroraptor, dinosauro apparso nell'ultima pellicola del franchise, ossia Jurassic World Dominion. Il Pyroraptor visse tra le attuali Francia e Inghilterra, e apparteneva probabilmente al genere dei Dromeosauridi. In base agli scarsi resti in nostro possesso, si stima che raggiungesse il metro e mezzo di lunghezza circa. Il Pyro possedeva il classico artiglio a falce, e un bel piumaggio, chissà che colori aveva. Ad ogni modo, il Pyroraptor lo inseriamo assolutamente nel parco. In Europa, durante il Giurassico Inferiore, visse anche un altro dinosauro piuttosto famoso all'interno della saga Jurassic Park, ossia il Comsognatus. Inizialmente ritenuto il dinosauro più piccolo mai esistito, ora sappiamo che non è così, il Comsognatus era un predatore agile, che raggiungeva il metro di lunghezza al massimo, per un peso di qualche chilogrammo. Non ci sono prove che il loro morso avesse la capacità di narcotizzare le prede. Questa è un'idea dell'autore del romanzo Jurassic Park, Michael Crichton. Un altro piccolo dinosauro che voglio assolutamente inserire nel parco europeo è Scipionix, un agile predatore vissuto in Italia durante il Cretaceo Inferiore. Scipionix è stato rinvenuto in Campania. Le sue dimensioni stimate si attestano sui due metri massimo. Concludiamo la carrellata dei predatori di piccole dimensioni con un'altra star europea, ossia Archeopteryx. Scoperto in Germania e vissuto durante il Giurassico, Archeopteryx è diventato molto famoso in quanto presenta caratteristiche affini agli uccelli attuali. Lungo circa 50 cm, più o meno come un corvo, Archeopteryx era probabilmente capace di planare e anche di volare, ed era appunto un predatore. Già mi immagino una bella voliera per questi meravigliosi animali. Che dire signori, credo che abbiamo per le mani un signor parco dei dinosauri. Sicuramente si potrebbero aggiungere altre specie, cambiandole con quelle che io ho fornito. Anzi, se avete suggerimenti, la sezione commenti vi attende. Resta solo una domanda fondamentale da farsi. Dove lo costruiamo questo Jurassic Park Europe? Nei panni della Ingen si parlava di un parco nelle isole azzorre, mantenendo quindi sempre l'idea di un'isola. Potremmo quindi avverare il piano di Hammond, oppure scegliere un'altra location. L'importante è non assumere un Dennis Nedry europeo. Per il resto va bene tutto, ecco. Bene, il video termina qui, spero che sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale perché no, ad attivare la campanella. Se volete supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamento, oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa, PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!